Benvenuti cari followers, c'è un avviso molto severo e urgente in Italia a partire da domani, mercoledì 12 giugno 2024. Tuttavia, prima di entrare nei dettagli, chiariamo a tutti che l'obiettivo di pubblicare questi avvisi non è per spaventare la gente, ma piuttosto solo un avvertimento e solo quello. Voglio dire non aver paura, ma fai attenzione, il nostro motto è sempre prevenire è meglio che curare. Pertanto spero che condividiate questo avvertimento con tutti, grazie. Il modello europeo lancia quindi un avvertimento rosso scuro per le regioni settentrionali d'Italia del pericolo di temporali molto forti che potrebbero portare con sé la caduta di quantità molto grandi di pioggia, vicine o superiori, alla soglia degli 80 mm come tasso di accumulo in un brevissimo periodo. Periodo di tempo, che può portare al verificarsi di inondazioni con rischio di caduta di chicchi di grandine di grandi dimensioni. Quindi domani allerta rosso scuro per Valle d'Aosta, Lombardia, Trento, Alto Adige, Friuli, Venezia, Giulia Veneto, allerta arancione e gialla per Liguria, Piemonte, Emilia, Romagna, Marche ed ogni altra novità importante cercheremo di aggiornarvi dopo.